Il Milan è una delle idee del marketing Il marketing del Milan Speriamo che con i cinesoni Cambia anche il marketing Anzi ne siamo sicuri Sulla destra Parte Anderson Luke Luke La mette in mezzo Ciruzzo Se la faccia sul destro Rigore 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 Questo è rigore 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 Questo è rigore Allora dice Non l'ho toccato No Come non è rigore Ma come non è rigore Non l'ho toccato Continua a dire Donnarumma C'è Se ne va via Se ne va via La zapata è ridicolo Inzaghi Dai come è rigore Non puoi dire che non l'hai toccato Ha spostato il pallone Lo prende in pieno Allora Adesso vi faccio vedere la lavagna Guarda Il contatto è minimo ma c'è Il contatto è minimo ma c'è Ma ha dato rigore o no? Sì Sì Rigore per la Ha ragione Donnarumma Ha ragione Donnarumma Lo salta immobile Ha ragione Donnarumma Lo salta immobile Ma ha ragione Donnarumma È stato dato o no? Eh? Sì Allora facciamo luce con Mondial Lux Eccolo qui gli amici Mondial Lux Però rigore viene dato Allora vediamo il rigore Poi ne discutiamo e vediamo Forza Non c'è rigore ha ragione Gigi Io la forte in mezzo Come si? Biglia 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 Pigione vai Vai Pigione Vai Pigione Vai Pigione Allora Londa Londa mondo flex Gli è la ridà il Pampa C'è largo a destra Bate Ancora Sosa La fa filtrare a Suso Rimitellarea Entra dentro Suso Le sue finte Il tiro a giro Goal Proejo Proejo di Susone 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 Il fenomeno Il fenomeno che ha parato tutto Proejo di Susone Grazie.